Buonasera a tutti, aspetto giusto qualche secondo, che i primi secondi finché ci colleghiamo tutti. La connessione può essere un po' lenta e poi iniziamo, giusto questi 4-5 secondi. Bene, allora intanto benvenuti e buonasera a tutti. Mi presento, io sono Elena, lavoro per l'Associazione Succede Sola Bologna e abbiamo pensato di organizzare questi webinar così da poter passare un'oretta piacevole, mi auguro anche per voi in compagnia, e parlare un pochino dei monumenti della nostra città, di Bologna, che tanto ci piace. Allora, innanzitutto vi ricordo che per i prossimi webinar che faremo è necessario essere associati, quindi alla fine di questa serata, di questa oretta, riceverete un link con il quale potrete collegarvi direttamente per associarvi, se vi fa piacere seguire anche gli altri webinar che faremo, dovete fare la tesserina da soci. I prossimi saranno dedicati a dei monumenti più specifici, quindi riusciremo a vederli anche all'interno e parleremo proprio del monumento in sé, quindi il prossimo per esempio sarà dedicato la basilica di San Petronio, poi ci sarà il sottotetto, la cripta di San Zama e quindi saranno più specifici. Invece questo è più generico proprio perché ci piaceva iniziare con un webinar più a raggio, un po' più ampio, che ci permettesse di sorvolare la città e di parlarne, insomma, a 360 gradi. L'associazione Succede Sola Bologna, per chi non ci conoscesse, è un'associazione no profit e si occupa di gestire e coordinare alcuni monumenti, tra cui appunto la cripta di San Zama, i bagni di Mario e San Petronio. In più organizziamo delle visite guidate, facciamo degli eventi come il San Loka Day, facciamo il Cino Day, delle attività che coinvolgono la cittadinanza come lo Sgura Bulagna, perché l'obiettivo di Succede Sola Bologna, a cui noi teniamo tantissimo, è proprio quello di prenderci cura della nostra città e lo facciamo attraverso alcuni interventi di manutenzione ordinaria nei monumenti, oppure appunto ripulendo i portici e con queste attività diciamo civiche. Iniziamo adesso con la presentazione, così magari intanto se passa ancora qualche minuto riusciamo a permettere a tutti di collegarsi. Intanto vi spiego perché abbiamo scelto questi temi. Ovviamente saprete benissimo tutti che Bologna è associata soprattutto a tre aggettivi, la dotta, la grassa e la rossa, che sono quelli principali e poi abbiamo voluto aggiungere la turrita e due aspetti particolari che sono la musica e i portici ai quali la città ovviamente è molto legata e poi li ho messi vicini, alla fine della presentazione vi spiegherò anche perché in vista di alcune candidature recentissime. Allora partendo dalla dotta che è il primo aggettivo che ne viene attribuito ovviamente non si può non parlare dell'archiginnasio. Infatti in questa slide vi ho messo proprio due immagini che raccontano in due momenti diversi lo studium, cioè la fondazione di questa Alma Mater Studiorum che è l'Università Bolognese. È considerata la più antica del mondo e viene convenzionalmente fatta risalire al 1088 che però è un anno in realtà convenzionale perché è una data che venne scelta da una commissione di intellettuali e letterati, cappeggiata niente po' di meno che da Giosuè Carducci, che nel 1888 decise che serviva a fare un centenario, quindi bisognava fare l'ottavo centenario, scelsero il 1088 convenzionalmente. In realtà non c'è un giorno preciso in cui è nata l'università, chiaramente è una cosa che si è sviluppata nel tempo e tutto inizia con lo studio di alcuni testi giuridici, in particolar modo il Corpus Juris di Giustiniano I e da parte di alcuni studiosi. questi giovani che iniziano a studiare questo testo di diritto romano danno vita proprio a quello che si chiamerà poi lo studium bolognese e loro verranno poi identificati come i giuristi perché loro si occupavano proprio di studiare questo testo antico che nella loro epoca era di difficile comprensione e anche di difficile interpretazione perché erano passati molti anni e secoli addirittura. Quindi alcune parole, per esempio, del latino corrente erano ormai diventate desuete oppure avevano dei significati diversi, quindi loro interpretavano proprio queste leggi e cercavano di interpretarle e di spiegarle e per farlo aggiungevano le glosse, quindi vengono chiamati anche glossatori proprio perché aggiungevano di fianco al testo delle spiegazioni di queste leggi e di questo testo, il Corpus Juris. I glossatori avevano un ruolo di capitale importanza in città perché appunto il loro compito era non solo quello di spiegare e comprendere questo testo di diritto ma era un ruolo civico perché poi serviva effettivamente applicarlo questo testo anche alla società che loro stavano vivendo. Uno dei padri fondatori dell'università è Irnerio che è di origine germanica ed è considerato il primo, giusto per mettere qualche curiosità perché se no passiamo tutta la sera a parlare di Irnerio ma è il primo che mette in un testo giuridico il terzetto di Tizio, Caio e Sempronio che noi conosciamo benissimo, che siamo abituati a citare regolarmente. Questi tre compaiono per la prima volta in un testo giuridico grazie a Irnerio in un classico esempio di legge. Invece a Curzio si occupa principalmente di mettere ordine all'interno delle glosse che erano state stilate quindi per comprendere anche meglio le spiegazioni perché spesso si cadeva anche nella contraddizione. Invece Rolandino dei passeggeri che è vissuto nella metà del 200 è noto per aver posto le basi di quella che è l'arte notarile e infatti lui era notaio e anche giurista e con la sua Rolandina che è il testo più importante per quello che riguarda proprio l'arte notarile e la summa totius artis notarie compone proprio questo tipo di professione dando regolamenti e spiegazioni. Viene chiamata appunto la Rolandina per semplificare dal suo nome. Inoltre insieme altri quattro notai, altri tre in realtà erano in quattro in tutto, compose un redasse, un testo che per Bologna è un vanto perché è il Liber Paradisus ed è il testo con il quale nel 1257 Bologna affrancava gli schiavi e li liberava dalla servitù della gleba. Quindi rendeva liberi quasi diecimila persone, li rendeva cittadini bolognesi in un modo molto semplice. Il comune pagava ai proprietari di queste persone che li possedevano come possedevano la terra, possedevano anche la persona che la coltivavano, erano servi della gleba e loro appartenevano alla gleba, alla zolla di terra che lavoravano e quindi il comune li riscatta, paga per queste persone che vengono liberate, che diventano cittadini liberi e quindi potranno anche poi pagare le tasse, quindi avendo anche un ritorno economico ovviamente. Questo è quello che succede prima della fondazione dell'archiginnasio, quindi in epoca più antica, perché fino al 1562-63 lo studium è sparso in diverse aule in giro per la città, non c'è una sede unitaria, che viene fondata invece solo in questi anni proprio con un committente d'eccezione che è Papa Pio IV, aiutato da il legato pontificio che è Carlo Borromeo e il vice legato pontificio per Bologna che è Pierdonato Cesi. Questa triade di uomini coltissimi, illuminati e di grande gusto realizza oltre a altri interventi urbanistici per la città di Bologna importanti che sono per esempio la fontana del Nettuno che è una fontana monumentale innanzitutto ma è proprio una fonte d'acqua, quindi danno anche l'acqua al popolo che è un grande gesto per ottenere consensi chiaramente e costruiscono anche questa sede unitaria per lo studium bolognese. Vi ho messo queste due immagini perché nell'immagine inferiore si vede proprio una classe di studenti e mi piace moltissimo questo alto rilievo perché si vedono rappresentati degli studenti assorti, alcuni che prendono appunti, altri che stanno ascoltando attentamente, altri invece che sono più distratti e si voltano da un'altra parte perché sono proprio esattamente come gli studenti di oggi e quindi questa è un'immagine che mi piace sempre molto anche per il dinamismo e il modo che ha di raccontare l'essere studenti che non è cambiato per niente. Invece nell'immagine superiore ho messo questo scorcio in prospettiva delle aule antiche dell'archiginnasio che adesso ospitano il deposito librario perché dalla metà del 1800 l'archiginnasio non è più la sede unitaria dell'università ma è la biblioteca e quindi tutte queste aule sono state adibite a deposito librario ma in origine erano tutte chiuse, separate una dall'altra, quindi questa porticina che voi vedete al centro e che permette questo punto di fuga prospettico non esisteva, erano chiuse ed erano divise ripartite così, dieci aule, sette per i leggisti e tre per gli artisti che sono gli studenti di arti liberali. All'interno di queste aule c'è sempre collocato un affresco con la vergine e sotto a questo affresco veniva sempre collocata la cattedra del docente, quindi lo scranno dal quale si teneva la lezione. Ci sono poi due aule magne, rispettivamente una per i leggisti e una per gli artisti. Adesso quella per gli artisti è un'aula di lettura dell'università, invece l'aula magna dei leggisti è quella più famosa perché si chiama Stabat Mater e si può visitare, si può proprio entrarci e visitarla liberamente. Prende il nome da un'opera di Rossini. Vi ho messo alla fine una triade, la Bettisia Gozzadini, Luigi Magni e Laura Bassi perché parlando della università più antica del mondo occidentale, tra le più onorevoli d'Europa, d'Italia, sicuramente la migliore, anche quest'anno l'Ateneo di Bologna ha vinto il primato e quindi si è classificata prima in classifica, ma anche a livello mondiale è comunque una ottima università perché rientriamo se non sbaglio entro le prime centottanta e considerato che nel mondo ci sono università di ogni tipo, anche private, comunque da Cambridge a Oxford a Stanford, immagino tutti i grandi campus americani, è un'ottima posizione quella dell'Ateneo di Bologna. E ho messo per rendere omaggio all'Ateneo tre personaggi che sono magari più legati a delle curiosità che altro. Ho messo la Bettisia Gozzadini perché è la prima donna in assoluto laureata perché lei si laurea nel 1326 quando non esisteva neanche l'archiginnasio e si laurea in legge ovviamente, l'unica materia di studio possibile. Era talmente frequentata la lezione di Bettisia Gozzadini che lei era costretta a tenerle in piazza perché erano troppo affollate e in più le teneva vestita da uomo perché tanto era lo scandalo di una donna che potesse addirittura insegnare. E poi ho messo invece Luigi Magni che è uno studente di medicina che ha il merito di essersi laureato in medicina nel 1661 a dieci anni. Quando io neanche sapevo quasi la Gianmille Scarpe lui già si laureava in medicina e teneva delle lezioni pubbliche proprio per dimostrare di essere uno studente meritevole perché alcune male lingue lo avevano accusato di ehm insomma accusavano un po' l'Ateneo di aver regalato un po' a destra manca i titoli le lauree e quindi per ehm sfattare questo mito eh era un po' costretto a tenere anche delle lezioni pubbliche. E poi ho messo Laura Bassi che è invece una fisica vissuta nel 1700 eh importantissima per la fisica italiana e non solo che eh è stata eh la prima donna a a insegnare proprio a all'Ateneo all'università a quel punto l'università esisteva esattamente diciamo come i giorni nostri c'era già l'archiginnasio e tutto e lei si può considerare un prodigio perché già a ventun anni insegnava delle classi di di studenti insegnava fisica quindi già anche una materia eh molto complicata e poco femminile per l'epoca ma fino a qualche anno fa ancora poco femminile e in più eh a lei vennero dedicate eh come conoscerete benissimo strade, piazze e eh istituti scolastici ma la cosa più curiosa è che a Laura Bassi sono dedicate anche eh è dedicato un cratere su Venere che porta il suo nome e poi c'è un asteroide che gira nello spazio che si chiama Laura Bassi e mh e l'ultimo e più recente è invece una nave rompighiaccio che è la prima nave rompighiaccio italiana eh dedicata proprio si chiama Laura Bassi e viene utilizzata per le ricerche oceanografiche e questo è sintomatico dell'importanza di Laura Bassi perché se la prima nave italiana rompighiaccio fatta recentemente la dedichiamo ancora a lei ehm un motivo ci sarà quindi ovviamente è un vanto per noi bolognesi e per chi ha studiato all'Università di Bologna sapere di aver avuto degli illustri colleghi prima di noi. Ho messo poi una sala che eh mi auguro qualcuno di voi abbia già visto perché è il teatro anatomico e si trova proprio all'interno dell'archiginnasio. È chiamato teatro perché viene costruito nel seicento proprio con uno stile che richiama in poi teatri seicenteschi eh il milleseicento è il secolo del teatro. A Venezia viene aperto il primo teatro pubblico che è una rivoluzione incredibile perché finalmente dopo secoli si può tornare a teatro. Chiunque può tornarci anche il cittadino comune non più solo i nobili possono andarci tutti l'importante è avere i soldi per pagare il biglietto e si può e si può stare eh in platea ovviamente invece i nobili stanno su nei palchetti e il teatro eh come lo vedete è costruito interamente in legno eh il legno è quello originale anche se è stato bombardato nella seconda guerra mondiale perché nonostante il bombardamento i gravi danni subiti è stato ricostruito con gli stessi pezzi. Hanno recuperato tutti i pezzi e le statue e si è si è riuscito insomma a ricostruirlo per il novanta per cento in buona parte. Al centro è collocato il tavolo sul quale veniva posizionato il cadavere e poi si dissezionava e questo era proprio il teatro anatomico per studiare anatomia. Ehm è costituito da due ordini di di statue. Due le vedete davanti proprio di fronte a noi ci sono due eh persone due uomini che sorreggono un baldacchino. Quella è la posizione del docente quindi quella è la cattedra dove stava il il professore e eh quei due personaggi che vedete vengono chiamati gli spellati perché eh sono solo fasci muscolari quelli che voi vedete non hanno la pelle e sostengono un baldacchino sul quale è adagiata una signora che apparentemente così ha uno sguardo un po' eh distratto potrebbe sembrare una una vergine non so la madonna con un angioletto invece quel quella signora è l'anatomia è una figura allegorica e quell'angioletto che sembra donarle un fiore in realtà le sta apporgendo un femore perché ovviamente lei è l'anatomia non vuole fiori vuole ossa e intorno a a tutta l'aula trovate poi i banchetti dove venivano dove si sedevano gli studenti che assistevano alla alla dissezione del cadavere venivano conservati in delle ghiacciaie vi vi lascio immaginare con tutti i miasmi la difficoltà di praticare questi studi e tutto intorno trovate poi delle statue in due ordini il più basso è quello con le statue di medici illustri quindi penso a Ippocrate Galeno questi qua i medici classici diciamo e poi invece l'altro ordine è quello che ospita dei medici relativamente più recenti e ne ho messi due in particolare bolognesi uno è mondino degli utzi che è considerato il primo mh anatomo patologo della storia perché lui nel 1300 alla fine del 1200 inizio 1300 già dissezionava cadaveri e apriva corpi per studiare come eravamo fatti all'interno e ovviamente era uno studio molto importante perché noi diamo per scontate molte cose invece è proprio da questi studi sperimentali che che venivano fatti che prende poi inizio l'anatomia lo studio come vediamo qui nel 1500 e nel 1600 scusate l'altro invece personaggio è gaspare tagliacozzi che è quello che mi fa più sorridere perché gaspare tagliacozzi è il primo rinoplasta della storia lui si specializza in nasi ricostruisce nasi bocche e orecchie diventa bravissimo per intervenire su queste parti si serve di piccoli lembi di pelle che prende dall'avambraccio qui sotto l'ascella di un male esagerato prende quel pezzettino lì di pelle e lo applica sul naso o sulla bocca di chi ha subito per esempio delle mutilazioni oppure ha subito delle bruciature delle scottature delle ustioni degli incidenti e la cosa divertente che ci sono delle lettere che testimoniano che i suoi pazienti erano addirittura più contenti e soddisfatti dei loro nuovi nasi che non dei nasi che avevano avuto in origine da madre natura esattamente come i giorni nostri succede a un chirurgo estetico che si occupa di ricostruire un naso per i più svariati motivi che possono essere anche incidenti non solo per dei vezi della società ho messo anche il giovane giovanni aldini perché anche lui così finiamo un po questo filone macabro e noir perché giovanni aldini che è il nipote di luigi galvani è molto affascinato dagli esperimenti di luigi perché ovviamente luigi galvani scopre questo fenomeno della galvanizzazione no e con degli elettrodi diciamo che fa muovere le rane questi animaletti piccoli invece aldini si vuole cimentare su animali di taglia più grossa e quindi inizia con delle teste di mucca di cavallo fino poi a spingersi oltre e inizia a sperimentare anche su dei cadaveri umani con tutte delle implicazioni etiche e morali che che seguono questi esperimenti che noi comunque troviamo anche un po magari diamo per scontate perché siamo abituati al discorso dei di frankenstein oppure di non so gli zombie c'è un sacco di cinema horror che ci fa sapere esattamente tutto come potrebbe andare se risvegliassimo un morto ma nel 1800 ancora tutto un tema da scoprire e anche la letteratura ne è molto affascinata infatti giovanni aldini nel 1803 si trova a londra perché a lui gli serve un cadavere che sia intero e londra e le condanne a morte sono per impiccagione e quindi il cadavere è perfetto alcune ma le lingue sostengono che abbia addirittura pagato i giudici per avere un determinato cadavere condannato ma non ci è dato sapere perché non risolviamo i casi adesso figuriamoci nel 1800 se potremmo mai scoprire se era vero o no comunque questo poveretto george forest viene condannato a morte innocente o no non si sa e viene condannato e il suo corpo viene utilizzato da giovanni aldini per fare un esperimento a teatro perché i suoi esperimenti erano degli spettacoli quindi partecipavano centinaia di persone a teatro e si assisteva a queste scariche di elettricità che folgorava praticamente dei cadaveri con degli elettrodi attaccati ad una pila e ovviamente quando folgorava questi cadaveri si alzavano un pochino si mettevano magari a sedere oppure in base a quanto era potente la scossa aprivano occhi e bocche e proprio quella sera tra il pubblico si trovava il padre di Mary Shelley che probabilmente quando tornò a casa raccontò l'accaduto perché quella sera quando lui riuscì a far muovere il corpo di un morto e quindi cercava di dimostrare che lui poteva riportare la vita dopo la morte perché con l'elettricità voleva far ripartire le sinapsi il cuore tutto quanto quindi la scintilla vitale ovviamente la folla del pubblico si spaventò ci fu chi gridò chi scappò e addirittura il suo assistente l'assistente di Aldini quella sera a casa ebbe un infarto quindi un proprio scosso completamente se ne parlò per mesi e il padre di Mary Shelley fu uno degli ospiti quindi sicuramente lei da piccolina ha sentito raccontare questo evento e lo dice lei stessa di aver avuto un sogno da piccola eh in cui eh racconta proprio questo aneddoto e probabilmente è un sogno che lei ha fatto oppure se non è un sogno eh il racconto del padre che lei ha sentito da piccolina e che ha da adulta ehm ridefinito come un sogno come succede a volte con alcuni ricordi di quando siamo molto piccoli che non non riusciamo a distinguere se sono effettivamente successi o se l'abbiamo solo sognato o sentito raccontare la memoria lo fa però possiamo avere il vanto di aver ispirato uno dei più grandi romanzi d'appendice del dell'ottocento che è Frankenstein o il moderno Prometeo eh perché Giovanni Aldini che è un bolognese a Londra ispirò questo questo romanzo che è famoso ovviamente in tutto il mondo ed è uno dei principali romanzi della letteratura inglese. Adesso passo invece all'altro aggettivo molto meno noir e molto più invitante che è la grassa che ehm è spesso associato alla cucina bolognese perché ovviamente la cucina bolognese un po' un pochino grassa lo è però ehm in realtà è un è un aggettivo che è molto più antico perché eh i giai romani definivano questa terra questa porzione della della pianura padana come una terra molto ricca e molto eh fertile e soprattutto in alcune annate precise raccontano di aver avuto del dei raccolti eh prodigiosi quindi alberi da frutto che impazziti davano frutta come se non ci fosse una fine e anche le messi con dei raccolti prodigiosi quindi in questo senso la terra era grassa era proprio abbondante tracotante e ho messo proprio una citazione di di Artusi perché ehm ovviamente è una voce autorevole e quindi se lui dice che la cucina bolognese merita una riverenza non possiamo che fidarci la la il primo tema che che ha voluto trattare è quello della mortadella perché è uno degli alimenti più antichi e più buoni che che abbiamo e probabilmente la sua origine è addirittura di epoca romana infatti vi ho messo qui una foto con una stele romana che si trova al museo archeologico che rappresenta proprio un signore che porta al pascolo dei maialetti lui è un pastore e sta facendo pascolare sei sette maialetti qui ne vedete solo un po' e di fianco c'è una rappresentazione di un pestello con un mortaio perché probabilmente è proprio l'origine del nome mortadella questo strumento che veniva utilizzato per pestare le carni suine ehm per renderle poi per farne un insaccato alcune teorie invece ritengono che derivi da dal mirto che era un odore una sorta di spezia che veniva utilizzata per insaporire questo alimento che oggi non si usa più ma che in epoca romana si utilizzava per le carni suine eh c'è una diatriba nessuno riesce a dire effettivamente da quale di queste due parole la radice mortadella derivi eh di fatto bisogna dire che in questa stele c'è uno strumento specifico che viene utilizzato quindi possiamo ognuno poi sceglie quella che che preferisce ehm la la mortadella ha però un grande pregio che è quella di essere la ne ha molti in realtà è buonissima però il più storico è quello di essere stata il primo alimento ad avere una denominazione IGP perché nel 1661 viene emanato un bando per proteggere e tutelare questo insaccato che è una protezione esattamente funziona come IGP quindi deve essere prodotto in una certa eh porzione di territorio quindi una ehm geograficamente protetto perché deve essere locale poi la carne deve essere di un tipo quindi deve essere solo di maiale non devono esserci altri tipi di carne ehm e tutte queste eh regole che vengono messe sulla produzione di mortadella vengono ehm eh diciamo controllate dalla corporazione dei salaroli che eh appongono un marchio di garanzia sulle mortadelle prodotte localmente la corporazione dei salaroli che ha questo stemma araldico vedete tre gigli con questa coppa al centro che è una coppa contenente sale perché i salaroli eh ovviamente si occupavano di mantenere gli insaccati e si utilizzava chiaramente il sale ho poi messo alcune delle ricette ehm tipiche della cucina bolognese perché parlando di cucina protetta se vogliamo dire così da copyright non potevano mettere ehm quelle che sono depositate alla camera di commercio di Bologna le più antiche se vogliamo dire così sono quelle del 72 del 74 ormai anche l'82 comincia a essere un po' in là e poi le più recenti invece sono quelle del 2004 eh che sono la spuma di mortadella che è una una spuma ehm molto leggera che viene fatta principalmente con gli scarti della mortadella eh alcuni dicono addirittura scarti di scarti ma mh non importa perché è una cosa deliziosa è una sorta di mortadella spalmabile e poi c'è ehm la galantina di pollo che è invece un piatto molto antico perché ha origini rinascimentali e questa già nel 1500 è documentata viene fatta appunto di pollo o di cappone e ehm viene interpretato un piatto francese i bolognesi scoprono la balotè che è un piatto francese a base di carne e e lo fanno si chiama così perché ha forma di palla e loro lo lo fanno leggermente più allungato e gli danno questo nome galantina che viene dalla parola gelatina che si utilizzava per per farla si trova adesso in quasi tutti i supermercati ma si eh si usa principalmente come secondo ehm della domenica principalmente adesso si può mangiare regolarmente perché si trova facilmente poi c'è il gran fritto misto alla bolognese che è invece una ehm carrellata di piatti e di pietanze tutte rigorosamente fritte nello strutto per stare leggeri e si parte dalle verdure passando per la carne e ci mettiamo dentro anche i dolci tutto fritto per esempio la crema fritta ehm quindi con una grande vastità di scelta e soprattutto la particolarità è che è fritta eh nello strutto quindi molto più insaporito e anche un pochino più tamugno da da digerire ho messo poi al alcune misure entro le quali bisogna assolutamente restare perché anche queste sono depositate e quindi le misure della tagliatella che sono quelle che che leggete otto millimetri da eh da cotta e sette da cruda e sullo spessore non mi pronuncio perché non è stato codificato e quindi entriamo nel mondo del gusto personale comunque diciamo che siamo nell'ordine di un millimetro generalmente ecco più o meno eh in base poi al gusto però il lo spessore non è ancora stato codificato alla camera di commercio ho messo poi come eh pietanza così per concludere l'invenzione della scorza perché ehm questo alimento tipicamente bolognese che adesso si trova in alcune botteghe storiche del centro eh soprattutto nel quadrilatero non voglio fare nomi per non fare torto a nessuno però ci sono delle botteghe che che lo vendono ancora e poi ovviamente da Maiani questo lo devo fare perché loro sono gli inventori di questo di questo tipo di cioccolata è il primo cioccolato in forma solida prodotto in Italia e siamo nel 1832 la famiglia Maiani ehm è questa famiglia ehm geniale che già dalla fine del settecento inizia a a produrre cioccolato quindi in epoca napoleonica e poi si specializza appunto con la scorza che prende il nome da una specie di richiama un po' la corteccia dell'albero e quindi la scorza e ehm e poi nel 1811 crea il mitico cremino Fiat in collaborazione con la casa automobilistica piomontese e diventa la regina indiscussa del cremino che è il più buono cremino in assoluto. Nel 1908 fondano poi cioè fanno costruire questa palazzina Liberty all'inizio di via indipendenza l'architetto è eh Cézanne si chiama come il pittore francese ma ehm la palazzina oggi ospita un una marca di abbigliamento un negozio di vestiti immagino che spesso se ci passiate per intenderci è il negozio di di H&M quella palazzina fantastica in stile Liberty che oggi è soltanto negozio di vestiti però fino al 1955 così è stato proprio anche il centro nevralgico della dolce vita bolognese perché era il quartier generale della famiglia Maiani. Passo adesso al al colore alla rossa perché Bologna la dotta la grassa e la rossa. Spesso eh si si ci si confonde su questo aggettivo che in realtà è dovuto soltanto al colore della città ai mattoni alle tegole e a una particolare luce rossastra intensa molto satura come dice benissimo la la citazione di Piovene che vi ho messo che Bologna assume a una certa ora del giorno in estate verso il tramonto quindi magari verso le nove di sera e quando invece tramonta prima bisogna andare verso le sei ma soprattutto con alcuni tramonti in particolare in giugno e in ottobre in queste stagioni Bologna regala dei tramonti rossissimi e e la città si infuoca perché è completamente costruita in mattoni e dove non hai mattoni gli intonaci sono stati messi proprio di questi colori e quindi eh assume una bella luce rossa e irradia anche luce dal muro è una città luminosa e questo colore deriva dal dal mattone e quindi vi ho messo la striscia di mh pietra d'istria che trovate alla base del bellissimo palazzo che c'è in piazza maggiore che è palazzo da Cursio dove proprio di fianco al Nettuno se ci fate caso c'è una striscia bianca incastonata nel muro e lì trovate tutte le unità di misura della città perché ogni città aveva le sue unità di misura e quindi Venezia con la sua repubblica aveva le misure veneziane mh Ferrara con gli este se voi andate al castello degli estensi subito appena dentro ci sono le misure per Ferrara e poi ci sono le unità di misura bolognesi quelle modenesi che sono sull'uomo di Modena ed erano sempre esposte così le maestranze che venivano da fuori potevano adeguarsi alle misure della città se no era una confusione totale quindi eh quelle che voi vedete sono eh le misure di tutti i mattoni e di tutte le tegole che trovate in centro storico che vennero fatte eh in epoca più antica si dice anche ma questa è una leggenda proprio diciamo non scritta e più per ridere che altro perché è tramandata solo oralmente ed è sicuramente un falso quindi prendetela proprio come una una uno scherzo però si dice che per scegliere la misura del del mattone i bolognesi eh siano andati a prendere il mattone modenese e lo abbiano fatto leggermente più grande così per stare sempre dalla parte dei bottoni in ovviamente per questa rivalità che c'è sempre un po' tra tra Modena e Bologna su su tante cose poi ho messo mh sotto la le le eh i materiali edilizi perché vedete che alcune sono misure eh utilizzate per le distanze e quindi per esempio il piede il braccio che fungevano proprio da mh metro e invece alcune sono misure per i materiali edilizi da costruzione come il coppo e il mattone che sono eh un'altra un'altra cosa tutto questo fino all'introduzione del del metro quindi dello standard che ci ha messo tutti d'accordo parlando di mattoni ho ehm ovviamente dovuto citare per forza la basilica di San Petronio perché San Petronio se parliamo di mattoni è la chiesa gotica costruita in mattoni più grande del mondo è veramente un prodigio di architettura perché è interamente costruita di mattoni è un un lavoro immenso perché per fare un mattone noi adesso siamo veloci a farlo però per fare un mattone era un lavoro complicatissimo è lungo bisognava cuocerlo bisognava quindi per fare una cosa mastodontica come la basilica ovviamente era un'impresa veramente ardita iniziano i lavori alla fine del 1300 si inizia per volere del comune che è orgogliosissimo di avere una certa indipendenza una certa libertà e quindi vuole rendere omaggio a questo comune libero proprio creando un tempio civico che ehm deve rappresentare i bolognesi San Petronio non ha mai voluto essere la cattedrale e non ha mai voluto essere la sede della cattedra del vescovo perché nasce proprio con uno spirito civico dal comune pagata dai cittadini con le tasse per costruirla e eh e possederla quindi non vuole che che sia la sede del del vescovo vuole essere soltanto la il tempio civico e religioso della città e infatti i proprietari per molti secoli furono i furono i cittadini fu il comune quando alla metà del quattrocento ci sono le prime battute d'arresto perché ovviamente finiscono un po' i soldi ehm alcuni papi vendono anche i materiali edilizi e poi si intascano i soldi della fabbriceria quindi ci sono molte battute d'arresto purtroppo ehm a a quel punto è anche cambiato un pochino il gusto quindi il gusto gotico che eh era in voga alla fine del trecento alla fine del millequattrocento dopo cent'anni è già bello che è finito perché a Firenze esplosa rinascimento ci sono cupole eh e questi a Firenze fanno cupole il Brunelleschi fa tutta una roba e quindi anche Bologna vuole una una chiesa così e quindi si fa un nuovo progetto molto più ampio molto più grande eh veramente mastodontico con un'ampia cupola con un bel transetto che faccia una bella croce e con delle torri campanarie questo però vuol dire pagare molti più soldi e innestare un progetto completamente nuovo su un progetto antico che aveva tutt'altre dimensioni all'inizio del mille cinquecento quando questo progetto prende avvio ormai Bologna però non è più il comune libero indipendente che era stato è stata conquistata il papa Giulio II è arrivato a cavallo e ha occupato la città senza spargere neanche una goccia di sangue l'ha fatto in maniera molto pacifica però è entrato quindi alla fine Bologna diciamo vengono meno questi ideali ehm e si va un po' arenando tutto questo cantiere che già era fermo da un po' di tempo e quindi quando nel mille cinquecentosessantadue l'archiginnasio viene costruito da papa Pio IV viene proprio sancita la fine definitiva dei lavori della della Basilica di San Petronio perché in quel punto non verrà mai più costruito un transetto e quindi diciamo che spesso si accusa il papa di aver voluto fermare i lavori della Basilica per timore che diventasse troppo grande eh quando in realtà ci sono diverse con cause come vi ho appena spiegato all'interno di questa opera meravigliosa che è la Basilica eh ci sono conservate diverse opere d'arte strumenti musicali strumenti scientifici noi oggi la vediamo compiuta solo nel basamento della facciata che anche lì non è proprio compiuto proprio completamente perché mancano tutte le parti fondi delle delle lunette mancano le nicchie eh sono vuote non ci sono le statue insomma anche il basamento non è completo con questi bei marmi rossi e bianchi che sono i colori della città quindi non una scelta casuale proprio per quel senso civico che aveva e poi tutta la parte superiore invece è rimasta in laterizio con tantissimi progetti che vennero fatti per completarla tutti questi progetti di architetti anche illustri da Andrea Palladio vengono conservati al museo li trovate tutti ci sono una infinità di facciate e di progetti che arrivano fino addirittura all'epoca del ventennio eh fascista quando si è tentato l'ultimo progetto e l'ultimo in realtà più recente l'ho letto due settimane fa sul Carlino che c'è stato qualcuno che voleva proporre un bosco verticale quindi ogni tanto qualcuno si sveglia che ha un'idea per completarla ma alla fine noi la vogliamo così anche perché a me piace tantissimo perché è proprio un un fermo immagine di come poteva essere una basilica work in progress nella metà del quattrocento quindi se vogliamo sapere com'era una basilica prima che avesse la facciata compiuta tutti i marmi era esattamente così e quindi a me piace moltissimo per per com'è rimasta all'interno invece è compiuta con le volte che sono seicentesche e poi trovate una meridiana che è uno strumento scientifico all'interno di un luogo sacro perché è comunque un luogo religioso anche se nasce con questo spirito civico viene poi consacrata nel 1954 recentemente però consacrata ovviamente e la chiesa ehm ospita appunto questo strumento che serve per calcolare il mezzogiorno bolognese che non è il mezzogiorno a cui siamo abituati tutti perché Greenwich ci ha fatto abituare che abbiamo un meridiano quando stiamo in questo spicchio è mezzogiorno per tutti perché se no non ci capiamo però in realtà il sole quando compie questo arco nel cielo lui è al centro solo in un preciso momento quando è al centro a Bologna non è al centro a Modena o a Palermo o a Venezia e quindi eh il mezzogiorno astronomico bolognese viene mh segnalato tutti i giorni da la meridiana di Cassini c'è un forellino sulla volta della navata laterale di sinistra che fa entrare il sole che fa un disco solare sopra proprio a questa linea lunga 67 metri che ne fa la meridiana più lunga al mondo la meridiana funziona tuttora benissimo e ehm Cassini è uno dei più grandi eh astronomi della storia è un vanto veramente per la città lui è stato anche docente di astronomia ha avuto la cattedra e c'è una sonda adesso ehm ha girato diciamo per diversi anni adesso questa sonda della nasa non c'è più perché anche le sonde della nasa dopo un po' eh finiscono no al loro ciclo vitale come tutto e quindi adesso non c'è più ma la sonda Cassini per anni ha mandato foto dai luoghi più eh sperduti dell'universo e abbiamo delle immagini dettagliatissime dei video addirittura ravvicinati di Giove di Saturno ehm abbiamo potuto studiare i movimenti delle lune di di Giove ha ha ripreso un passaggio tra Europa e io che sono due lune di Giove proprio vicinissime alla macchia rossa di Giove tutto grazie a questa sonda della nasa dedicata a Gian Domenico Cassini che è eh quindi un nome illustre per l'astronomia diciamo che ha posto proprio le le basi una pietra migliare ecco e poi all'interno è conservato anche eh l'organo di Lorenzo da Prato che è uno strumento eh che mi auguro se se tornate se passate se siete bolognesi eh andiate a vedere domani stesso appena siamo gialli gialli rinforzati quello che saremo eh in chiesa ci si può sempre andare le chiese sono aperte quindi si può andare a messa e all'interno c'è quest'organo antico che è l'organo ehm monumentale a registri indipendenti più antico del mondo nel senso che fatto in questo modo più antichi dell'organo di Lorenzo da Prato di San Petronio non ce ne sono ehm non è il primo organo che sia stato costruito nella storia degli organi però è il più antico che è arrivato quindi è il più antico del mondo e in più è l'unico fatto in questo modo perché è inventato proprio da Lorenzo da Prato lui ehm inventa un sistema di manopole che serve per chiudere e aprire le file delle canne dell'organo prima quando si suonava l'organo si schiacciavano i tasti e il suono usciva tutto insieme all'unisono dalle canne ci sono canne sottili che fanno i suoni acuti e le canne più grosse o anche medie che fanno eh dei suoni più gravi e quindi per esempio la controfacciata cioè la parte posteriore è quella che ha delle canne enormi grandi anche quadrate di legno per fare i suoni gravi e davanti ci sono magari canne più sottili che fanno i suoni acuti in questo modo chiudendo alcune file posso scegliere se far andare ehm le alcune canne e altre no e questo fa creare all'interno un un suono un po' più sfumato come se ci fossero delle sfumature all'interno di questo suono non è tutto compatto insieme e e questo fa una certo colore all'interno della musica che è una grandissima novità per il quattrocento e infatti da quest'organo in poi tutti gli organi saranno fatti così adesso non esiste un organo che non sia fatto esattamente così cioè con i registri indipendenti una tastiera per suonare con le mani e una pedaliera per suonare con i piedi l'organo funziona così aveva poi dei mantici enormi sotto all'organo eh che venivano azionati da un giovanotto che ehm ovviamente eh cercava di di dare il massimo ecco per far funzionare tutto eh e pompava in modo che poi l'aria entrasse nelle canne all'interno questa è solo una chicca è conservata anche il cuore di Elisa Bonaparte la sorella di Napoleone che è sepolta qui a San Petronio è sepolta a Bologna c'è una nicchia eh c'è il suo bellissimo monumento funebre e poi c'è una nicchia nel quale è conservato separatamente il suo cuore poi passo al all'argomento torri allora ovviamente Bologna la torrita sappiamo benissimo perché perché aveva centinaia di torri si dice che addirittura ne avesse un centinaio chi dice centoventi chi dice novantasei ci sono diversi testi ma poco cambia era veramente una New York del medioevo e le torri si dividevano si dividono tuttora in tre tipo tipologie ci sono le torri gentilizie che sono l'asinelli la garisenda eh la prendi parte per chi conosce un pochino le torri oppure in via Altabella proprio di fianco alla cattedrale che c'è la torre Azzoguidi che si chiama eh comunemente la torre Altabella e poi ci sono le case torri che sono invece più basse e più tozze e hanno una base rettangolare ehm e venivano utilizzate ovviamente come abitazione e anche come magazzino a uso fondaco e poi eh ci sono i torresotti che servivano invece sulla cinta muraria per eh guardare eh e proteggere la città quindi come difesa le torri gentilizie hanno ehm una funzione duplice sia militare nel senso che più alta è la torre più mi permette di controllare il territorio della città che mi interessa anche perché erano fatte sempre da famiglie ricche e quindi eh si scontravano spesso con altre famiglie ricche magari di fazione ghibellina e di fazione guelfa e quindi questo era importante controllare il territorio della città sul quale si aveva più influenza e in più era un modo per ostentare anche la propria ricchezza quindi una dimostrazione di potere perché più ero una famiglia ricca e potente e più potevo pagare degli ingegneri o degli architetti che mi tirassero su una torre bella snella altissima che svettava soprattutto le altre e primeggiavano in questo modo dimostravo un certo potere economico che ovviamente si portava dietro tutte le conseguenze che si porta dietro sempre il potere economico ehm mi fermo un attimo sui torresotti perché ce ne sono di superstiti in città allora li trovate vicino a eh piazza al Drovandi e poi c'è il torresotto quello di via Castiglione eh ce n'è uno vicino al alla finestrella di via Piella e poi ce n'è un altro eh che lo trovate andando verso San Francesco praticamente è il torresotto di via Portanova ecco questo torresotto è quello che mi piace di più perché ospitò al suo interno la casa di una giovane donna che si chiamava Gentile Budrioli che era una giovane bellissima colta e anche ricca perché aveva sposato un notaio e in più ehm molto affascinante eh intelligente aveva studiato erboristeria aveva studiato astrologia all'archiginnasio all'archiginnasio allo studium perché lei vive nella seconda metà del quattrocento e l'archiginnasio ancora non c'è ma lei ha studiato all'università e ehm viene diciamo ehm notata in città dalla moglie di Giovanni II Bentivoglio che è Ginevra Sforza che è considerata la signora di Bologna e lei la vuole come dama di compagnia e Ginevra tanto disse tanto fece che alla fine ottenne l'amicizia di Gentile Budrioni ehm purtroppo in la seconda parte del quattrocento la famiglia ehm Bentivoglio cade un pochino in disgrazia un po' per delle scelte politiche eh sbagliate un po' per una vita dissoluta che che facevano i figli di di Ginevra e di Giovanni II un po' perché dopo un po' di tempo comunque alcune famiglie tentavano di prima di primeggiare e di portare via loro il potere e quindi si sviluppavano delle congiure come la congiura dei Malvezzi che venne sventata e ehm un po' si fecero in un po' dei nemici eh in città anche mh dopo la strage dei Marescotti perché fu veramente una strage cruenta e i cittadini bolognesi non apprezzarono moltissimo quindi tutta questa serie di di sventure che si abbatté sulla famiglia Bentivoglio venne mh usato un solo capro espiatorio che era Gentile Budrioli venne accusata di stregoneria e anche la sua amica Ginevra Sforza non poteva fare niente Gentile venne perquisita ovviamente in casa nel suo torresotto vennero rinvenute settantadue prove di congiungimenti carnali con il demonio questa cosa è una cosa che mi fa sempre sorridere perché non riesco a immaginare delle prove di congiungimenti carnali col demonio ma anche che non fosse il demonio cioè non so proprio infatti non sono ben identificate queste settantadue prove però c'è il numero preciso poi vennero rinvenuti ehm ossicini di pollo erbe aromatiche sicuramente erbe officinali che la poveretta utilizzava avendo studiato erboristeria eh erano la medicina dell'epoca insomma venne comunque portata all'interno di una cella che si trovava in San Domenico dove c'era la Santa Inquisizione e quindi venne rinchiusa e torturata per venti giorni e dopo venti giorni di torture confessò miracolosamente e magicamente si ricordò eh e confessò di essere una strega e quindi venne arsa arsa a rogo in piazza come succedeva a tutte le streghe però è sintomatico che la sua fama in vita l'abbia seguita anche dopo la morte perché lei era talmente nota in città quando era viva che anche quando morì eh lei non è ricordata come una strega come altre ce ne furono lei è la strega enormissima viene citata sempre così come la più grande e potente strega di Bologna ehm e quindi il suo nome fu fu grande anche dopo la morte dopo questa fine atroce nel suo pagliericcio venne messa anche della polvere da sparo per spaventare la folla che si era recata a guardare il rogo della strega perché si usava così ehm così esplodendo il suo pagliericcio eh si spaventò la gente eh e sembrava proprio che il demonio fosse venuto a prendersi l'anima della sua discepola prediletta. Adesso in città ci sono alcune tori superstiti quelle che conosciamo diciamo sono l'Asinelli, la Garisenda, ce n'è anche una in strada maggiore eh quella della torre degli Oseletti, c'è la torre dei Carrari, sono circa una ventina in tutto ma ehm vicino proprio alla torre degli Asinelli e la Garisenda ce n'erano altre tre che vennero distrutte, abbattute all'inizio del millenovecento proprio per per fare spazio quella che è la moderna eh via Rizzoli e per un intervento urbanistico che divise molto la città perché i picconatori come venivano chiamati quelli che volevano tirare giù le torri guidati da questo architetto che si chiama Ceri ehm che non era tanto amato in città eh erano osteggiati da tutta una branca invece di persone che volevano salvarle guidati da ehm Alfonso Rubiani e altri intellettuali e architetti. Anche Gabriele D'Annunzio eh si schierò ma tutta l'Italia in realtà cercò di salvare queste tre torri ma non si riuscì alla fine vennero abbattute e adesso ci abbiamo solo le due torri che conosciamo. Allora ehm queste appunto che che vi ho nominato sono lettori più famose. Vi dico solo alcune curiosità perché tanto sono sicura che queste le conosciamo benissimo. Allora intanto l'Asinelli venne costruita in dieci anni quindi millecentonove millecentodiciannove pare considerate che in quegli anni è difficile avere fonti certe su tutto ma queste pare che siano le date di costruzione. E ehm è novantasette metri di altezza e sono quasi cinquecento scalini di legno con un corrimano bassissimo quindi se salite state un po' attenti. E poi ehm ha ospitato all'interno eh un esperimento scientifico che è quello di Guglielmini della fine del Settecento. Infatti Guglielmini riuscì a dimostrare la rotazione terrestre proprio dalla torre degli Asinelli. Cioè eh dimostrò che hm la terra ruotava con un esperimento semplicissimo. Lanciò dei pesetti di piombo, questi gravi, che ehm caddero leggermente spostati di circa tre quattro millimetri e e questo ripetendolo più volte col metodo empirico che anche questo per noi è scontato ma eh ovviamente non è sempre stato così ehm dimostrò che tutte le volte i gravi cadevano leggermente spostati e quindi che c'era una rotazione verso eh verso ovest perché la terra eh ruotava in questo senso e quindi riuscì a dimostrare fisicamente che che ruotiamo ci spostiamo. Invece eh la la torre Garisenda è la sorella più famosa perché è quella più pendente e quindi se l'altra è alta, bella, snella e dritta, la Garisenda è più bassa, sono quarantotto metri, è un pochino più inclinata, sono circa quattro metri di pendenza, eh quattro gradi di pendenza, addirittura eh o recentemente alcuni rilievi hanno detto che eh è più pendente della torre di Pisa e quindi abbiamo anche rubato questo primato a Pisa anche se ne facevamo anche a meno forse eh però adesso è monitorata proprio perché la pendenza è notevole quindi va sempre tenuta sotto controllo. Ci tengo sempre a specificare visto che ho tirato in ballo la torre di Pisa che la torre della Garisenda è costruita bene, è dritta, solo che appoggia su una parte di terreno che è leggermente ehm eh come dire argilloso e quindi eh è sprofondata perché il terreno per metà è eh pietra e nell'altra metà essendo argilla è più tenero e quindi la torre in una parte in solo nel lato che dà verso est è sprofondata invece nel lato che dà verso ovest no perché lì appoggia su un terreno più più solido perché è roccia quindi non è che la torre sia costruita storta è costruita dritta non è come la torre di Pisa che sono andati su storti e poi si sono accorti che la torre non era dritta ma questa è stata costruita perfettamente gli ingegneri sono stati bravissimi sono stati sfortunati perché di fianco due metri neanche dalla torre degli asinelli che sta su dritta perfetta hanno trovato una parte di 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 argilla o di arenaria comunque di terreno meno solido consideriamo che sotto il sottosuolo di Bologna scorrono anche diversi canali ehm è ricca d'acqua Bologna è ricca d'acqua sotto è ricca d'acqua sopra con il Reno con il Po e infatti la città con un'umidità un tasso di umidità che neanche il Borneo eh perché è ricchissima di acqua e quindi sicuramente qua sotto trova passa anche la posa quindi trova sicuramente facilmente un terreno poco adatto e quindi è per questo che la torre è sprofondata attaccata alla torre della Garisenda c'era anche una chiesetta che è stata abbattuta nell'ottocento e al suo interno c'era un affresco meraviglioso di Lippo di Dalmasio che ehm per poco si è rischiato di ehm perdere perché era rimasto attaccato alla base della torre quindi quando venne abbattuta la chiesa non si staccò l'affresco si lasciò lì e questo lo rovinò molto infatti successivamente si decise poi di toglierlo e di ricollocarlo all'interno della chiesa di Santi Bartolomeo Gaetano che trovate proprio qui dietro quindi se volete vederlo l'affresco l'abbiamo salvato ed è proprio lì dentro. Vi ho messo poi questo personaggio incredibile che è ehm questo signore che vedete scappare con la torre in mano perché purtroppo non abbiamo né foto né stampe di questo evento perché eh era il 1400 e quindi non possiamo che raccontarlo e immaginare come come andò. Lui è Aristotele Fioravanti è un architetto di fama europea internazionale è un grande architetto io lo chiamo l'architetto delle imprese ardite perché si ehm riuscì a spostare una torre intera riuscì a spostare la torre della Magione dei Templari di circa tredici metri ehm la torre si trovava in fondo a strada maggiore c'è una targa che ricorda ancora questo evento e lui si convince di riuscire a trasportarla intera senza smontarla e lo fece scavò intorno al basamento collocò la torre sopra a dei tronchi di legno rivestiti di metallo e la fece scorrere piano piano per questa decina di metri ma talmente era sicuro della sua impresa della riuscita di questa impresa che mandò sopra la torre il figlio e intanto lo fece anche suonare la campana perché era una torre campanaria spesso le torri ospitavano delle campani anche la torre degli asinelli ospitava una campana per esempio e quindi mentre la torre si spostava il figlio che me lo immagino terrorizzato doveva anche suonare la campana perché suo padre era l'architetto sicuro che tutto sarebbe andato bene tra l'altro una cosa simile è successa nel novecento perché abbiamo spostato il campanile di trebbo trebbo di reno il campanile è stato spostato intero così hanno spostato con un sistema ad argani complesso però nello stesso più o meno nello stesso modo di aristotele inoltre lui fece anche un'altra opera incredibile che fu quella di hissare la campana dell'arengo all'interno della torre dell'arengo che trovate in piazza maggiore appena entrate su piazza maggiore vi si apre questa piazza immensa e se avete san petronio alle spalle di fronte a voi avrete il palazzo del podestà sul quale svetta una torre che è la torre dell'arengo che è una torre particolare perché non ha le fondamenta perché appoggia su quello che i bolognesi chiamano il voltone del podestà perché è un incrocio di quattro vie con coperto da una grande volta a crociera dove si fa anche il gioco del suono che spassa da un angolo all'altro no ecco la torre appoggia su quei quattro pilastroni non ha delle fondamenta come le altre torri delle fondazioni importanti e quindi issare una torre una campana di quattro tonnellate e sette su una torre che effettivamente ha subito anche diversi interventi di consolidamento perché è una torre che non ha una fondamenta appoggia su quattro pilastri era veramente un'impresa ardita anche perché alzare a 65 metri una torre una campana di cinque tonnellate quasi non era proprio come dirlo anche oggi sarebbe un'impresa complessa e lui lo fece con un sistema ad argani e fu talmente famoso nel suo secolo che venne chiamato in russia infatti se andate a san pietroburgo o a mosca al cremlino voi prendete una guida locale lei vi dirà un sacco di cose citando proprio aristotele fioravanti perché lui ha fatto un sacco di robe ed è morto in russia lui purtroppo tentò in tutti i modi di tornare scriveva delle lettere accorate al comune cercando in tutti i modi di farsi rispedire in italia bologna ma lo zar non lo lasciava andare e purtroppo non sappiamo neanche dove sia sepolto perché è morto in russia e non se n'è più saputo niente è sparito probabilmente in siberia e adesso passo invece al tema della musica allora finite diciamo le parti con gli aggettivi la musica non è un aggettivo però è una parte della città che mi sta molto a cuore perché bologna ha una tradizione antichissima per la musica è un è proprio se ne dovrebbe vantare in tutti i modi perché non ha nulla da invidiare ad altre città che hanno magari invece una storia musicale molto più nota per il teatro per grandi maestri che che hanno avuto i natali in quelle città allora inizio innanzitutto col dire che bologna è stata nominata città creativa della musica nel 2006 dall'unesco e proprio per questo motivo ho messo solo alcune parti di tutta la grande storia musicale di bologna perché sennò avremmo dovuto fare una serata solo su quello allora ho messo il doppio alla bolognese perché io mi auguro e vi auguro di assistere a un concerto di campane con il doppio alla bolognese perché il metodo per suonare le campane come lo fanno i bolognesi e lo fanno solo qua si usa questo metodo solo a bologna oppure in alcune zone della pianura dove si è un po' espansa questa tecnica ma è nata qua e si chiama così doppio alla bolognese in pratica viene costruita un'incastellatura all'interno della cella campanaria e poi vengono collocate quattro campane è quasi sempre un concerto da quattro campane di diverse dimensioni che fanno suoni diversi note diverse e poi servono una squadra di campanari una tradizione orale che viene dal quattrocento se non anche da prima e che viene tramandata oralmente da i maestri campanari l'ucb l'unione campanaria bolognesi che si occupa proprio di insegnare ai giovani questa tecnica e viene portata questa squadra su si sale sul campanile e poi i campanari iniziano a suonare ma non come si immagina con il campanaro che tira la campana stando giù e suona la campana su no i campanari stanno di fianco alla campana e la lanciano la campana viene suonata a slancio come si dice e loro per comunicare in mezzo a tutto questo concerto di campane che vanno che salgono scendono uno la prende l'altro la deve tirare giù hanno ovviamente alcuni quasi tutti i tappi perché sennò diventi subito sordo e comunicano solo con termini in bolognesi e con dei fischi hanno dei fischi particolari che loro si fanno per capire quando bisogna cambiare ritmo interrompere mantenere il tempo e poi si hanno dei termini come per esempio la corda che si chiama al chap perché è ma è stato mantenuto proprio così e si usa soltanto a bologna si possono vedere dei concerti di campane noi facevamo anche le visite sul campanile con i maestri campanari che suonavano quindi appena sarà di nuovo possibile vi auguro insomma di poter partecipare perché è bello si assiste a un concerto a mezz'aria e poi si ha una bella vista su tutta la città intanto le campane che suonano a festa è molto piacevole eviteremo anche i tappi tranquilli e ho messo poi il jazz perché il festival del jazz anche se non è una genere musicale italiano perché genere che nasce negli stati uniti però a bologna ha avuto il festival più importante d'europa e quindi per lunghi anni è stato il centro europeo per questo tipo di musica tuttora si fa il salotto del jazz in estate in via mascarella ma adesso il centro il cuore un po di questo tipo di musica è in Umbria con l'Umbria Jazz Festival invece diciamo per la zona emiliana si è spostato un po' decentrato verso Porretta dove c'è il Porretta Soul che è un festival veramente di notevole importanza perché ospita sempre dei grandi nomi del panorama musicale eh di questo genere e a Bologna se andate invece in viaorefici trovate tutti i musicisti più importanti per il jazz che hanno suonato a Bologna e ci sono tutti se vi piace un po' questo genere da Miles Davis a Duke Ellington a Louise Armstrong e veramente tutti i più grandi nomi ehm li trovate con delle stelle che fanno una specie di work of fame della musica in quel in quella via ho poi messo un grande personaggio bolognese per questo un colpo da maestro perché ehm padre Martini è stato un bolognese atipico lui visse nel 1700 ed era un francescano però aveva una fissazione lui era un collezionista era un grande maestro di musica un uomo coltissimo una persona di grande senso dell'umorismo ehm di di grande intelligenza e cultura venne amato da tutti i più grandi personaggi eh del panorama musicale della sua epoca e sto parlando di Mozart sto parlando di del figlio di Bach eh quindi personaggi veramente di un certo calibro ai quali lui insegnò tra l'altro e padre Martini è un collezionista lui colleziona partiture testi di musica strumenti e una quadreria di ehm capitale importanza perché abbiamo tutti i ritratti dei più grandi musicisti ehm della sua epoca eh eh abbiamo diciamo il volto di queste persone perché noi siamo abituati in un'epoca in cui la la riproducibilità tecnica di qualunque cosa è veramente all'ordine del giorno noi facciamo foto video di qualunque cosa abbiamo memoria di tutto ma nel 1700 è un attimo perdere il volto di una persona se nessuno gli fa un ritratto e se nessuno lo conserva lo lo salva da furti incendi da qualunque cosa e quindi ehm soprattutto personaggi che non sono illustri come magari dei costruttori di strumenti musicali qualcuno che costruisce violini qualcuno che fa mh eh delle viole ecco questi sono personaggi che magari non sempre vengono ritratti e lui invece fa questa operazione si fa spedire ritratti da tutti da tutta Europa a lui non interessa che siano grandi maestri che sia stato eh un grande pittore a dipingerlo a lui importa che ci sia il ritratto di quella persona che sia stato anche dipinto da uno meno famoso non importa l'importante è salvarne i tratti il viso e quindi possiamo vedere i volti di un sacco di persone grazie a tutta una quadreria una immensa quadreria dei ritratti che lui ci ha lasciato oltre a dei pezzi unici e rarissimi come il primo testo ehm di musica stampato al mondo che abbiamo a Bologna eh stampato proprio quella stampa perché era un'invenzione recentissima e quindi nel 1501 a Venezia viene stampato il primo testo di musica e lui se lo fa spedire ovviamente e quindi ce l'abbiamo e poi abbiamo eh il melopeo il maestro che è un testo del seicento che diventa rarissimo subito perché una volta stampato a Napoli è un testo che viene stampato in castigliano perché sta andando in Spagna ma il galeone sul quale viaggiava la tiratura di questo testo affonda e quindi viene subito diventa introvabile questo questo libro e infatti eh lui eh fa una gran fatica a ritrovarlo e c'è tutta una serie di lettere che si trovano al museo ehm una corrispondenza con amici e conoscenti che sono in giro per l'Europa tra il Portogallo e la Spagna che gli scrivono se trovano qualcosa finché finalmente qualcuno gli scrive che ha trovato questo testo rarissimo completo e infatti noi a Bologna abbiamo un elmenopeo in maestro completo e conservato da da padre Martini inoltre è stato l'insegnante di di Mozart perché a 14 anni Mozart è venuto a studiare a Bologna per avere la licenza perché era necessario e bisognava farla a Bologna all'Accademia Filarmonica e infatti padre Martini lo aiuta con il suo esame eh c'è questa eh storia che racconta che Mozart abbia fatto un esame non perfetto perché la punteggiatura che si chiama contrapunto all'italiana era molto rigido molto difficile e eh eh padre Martini sembra che gli abbia passato il compito non si sa perché recentemente alcuni studiosi hanno detto che non è vero che il compito di Mozart è originale di suo pugno però di fatto ci sono più versioni identiche di questo di questo compito e quindi c'è una versione scritta con una calligrafia e una versione scritta con un'altra calligrafia che è proprio la calligrafia di padre Martini perché noi la calligrafia di padre Martini la conosciamo benissimo con tutti i testi che lui ha scritto e anche quella di Mozart perché anche Mozart ne ha scritti tanti di partitura intendo quindi sappiamo come scrivevano e ce ne sono due quindi adesso passo invece all'altra candidatura perché nel duemila e sei candidati come città creativa della musica e nel duemila e venti l'anno scorso possiamo finalmente dire l'anno scorso eh Bologna è stata candidata come città eh per i portici no quindi la città come portici al mondo e quindi i portici sono stati candidati patrimonio dell'UNESCO ehm allora sono circa quaranta chilometri all'interno delle mura invece considerato anche i portici fuori dalle mura andiamo sui sessanta chilometri ehm sono stati contati recentemente proprio in vista di questa candidatura e bisogna contare tutta la città anche fuori dalle mura chiaramente non solo il centro anche perché San Luca è fuori dalle mura e cosa fai non lo conti che è il portico per eccellenza allora nasce questa idea del portico per un'esigenza di spazio quindi bisogna allargare un po' i piani superiori delle case per fare spazio alle abitazioni perché ehm ci sono molti studenti che vengono a studiare a Bologna siamo nella fine dell'anno 1000 poi nella fine dell'anno 1100 e ehm c'è anche il contado che si inurbava che veniva in città e quindi c'era necessità di case e quindi si allarga un pochino lo sporto che in origine sta su ehm autonomamente perché è una piccola sporgenza da questo il nome sporto no? Una parte della della facciata aggettava di un metro poi eh si inizia a sostenere questo sporto con i beccadelli vi ho messo proprio la foto qui per vedere come funzionava sono delle travi collocate in maniera obliqua che servivano per sostenere questa parte sporgente che voi vedete e poi successivamente quando lo sporto è tanto più aggettante e tanto più alto è necessario eh posizionare una colonna in questo ehm modo quindi con un angolo retto perché il beccadello non basta più per sostenere il peso e quindi nasce il portico ed è un'idea così una trovata così geniale per il comune di Bologna che nel 1288 decide bene di ehm farlo diventare obbligatorio proprio con un bando viene fatto un bando che imponeva a tutti chi aveva l'edificio che se lo doveva fare bisognava costruire con i portici e anche chi non ce l'aveva doveva farsi un portico ehm c'erano delle regole ben precise c'era una distanza da rispettare un'altezza da rispettare c'era ehm doveva passare permettere il passaggio di un uomo a cavallo ehm c'erano delle 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 regole proprio di misure obbligatorie ovviamente che però non tutti rispettarono il portico viene subito accolto dai bolognesi con come un un'idea geniale perché permetteva di poter continuare a lavorare quando pioveva per esempio magari vendendo le verdure oppure anche durante le le calde toride giornate estive poteva anche dare riparo da dal sole dalla calura perché si stava all'ombra e in più permetteva anche all'uscio di casa di rimanere un po' più pulito perché se si sta anche a un metro e mezzo dalla strada che di sicuro non era asfaltata che avrà avuto ehm cavalli ehm asini galline gatti cani qualunque cosa con le piogge torrenziali diventava magari la terra battuta anche un po' un fanghetto di sicuro avere una distanza non è che dispiacesse e quindi diventa anche utile da un punto di vista igienico no per intenderci passo adesso al portico dei ehm ehm degli isolani scusate perché ehm parlando di portici in legno che sono quelli più antichi questo è è quello più famoso e quindi ce ne sono anche altri in città ma questo qua è quello che si va sempre a vedere perché è un portico meraviglioso circa dieci metri di altezza e ospita questa leggenda che ospita queste tre frecce che sono collocate sul soffitto del portico dico leggenda perché appunto è una leggenda che nasce alla fine dell'ottocento nasce da uno scherzo goliardico e dalla goliardia che io amo molto eh poi vi spiegherò anche perché allora eh la leggenda vuole che eh questo marito eh tradito abbia ingaggiato tre sicari questi tre arcieri perché colpissero la moglie fedifraga e quindi che la uccidessero ma lei si mostra alla finestra bellissima e eh totalmente nuda e questi che eh sono lì per tirare la freccia perdono la trebisonda e sparano le frecce sul soffitto in poi c'è l'altra versione che invece fosse lui la vittima però anche lì sempre lei si mostra bellissima nuda loro sbacchettano tirano la freccia sul soffitto quindi alla fine se è anche una leggenda l'unica base di verità è che lì c'è stata una che si è affacciata alla finestra e questi hanno perso la trebisonda però il fatto è che la freccia non c'è perché sono tre eh paletti di ferro che voi trovate conficcati ma non sono delle vere frecce medievali perché nel nel 1200 le frecce ma anche dopo le frecce non sono di metallo sono di legno il corpo della freccia è un fatto di frassino generalmente e la punta è di metallo quella sì perché è la punta che deve arrivare e colpire ma la freccia deve essere leggera per poter volare diversi metri se no la freccia di metallo fa una gittata veramente ridicola e quindi venivano fatte diverse punte infatti nei musei noi abbiamo tantissime punte di freccia ma mai freccia intera con legno di frassino ci sono frecce con la punta a guzza che servono per colpire i cavalieri quindi la cotta di maglia entrare tra le maglie e poi ci sono frecce più grandi che servivano magari per andare a caccia del cinghiale ci sono altre frecce ci sono tantissime frecce dipendeva anche da che cosa si doveva fare da quanto lontano la dovevi lanciare da chi dovevi colpire e in base alla dimensione della freccia quindi della punta che veniva applicata e del corpo no del bastoncino che si utilizzava anche il piumaggio che si trovava nella parte posteriore che doveva bilanciare il corpo della freccia era regolato in base al peso della punta quindi una punta spessa avrà avuto un piumaggio più grosso non so dico delle piume di fagiano per dire oppure delle piume più sottili se c'era una freccia con una punta sottile è molto leggera questo perché si doveva bilanciarla e quindi queste non sono frecce sono paletti conficcati perché mi sembra evidente che sono di metallo se voi li guardate bene però questa leggenda vi dicevo prima a me piace tantissimo e la promuovo molto perché la gogliardia qui ha fatto un'operazione in molto intelligente che è stata quella di creare una storia intorno a un'abitazione modesta semplice modesta magari no però non un palazzo che ha ospitato la sede del governo oppure un palazzo che sia stato la sede delle corporazioni della città o la famiglia nobile no era una casa un'abitazione civica della metà del 1200 ed è una rarità poterne vedere una così ben conservata e se non ci fosse una leggenda magari qui non ci verrebbero tutti i turisti che ci vengono perché a palazzo grassi altri portici linei quello di fianco al palazzo delle mercanzie magari si guardano distrattamente invece qui ci si sta anche quei 10 15 minuti a cercare le frecce si guarda con più attenzione e quindi questa è un'operazione che a me piace tantissimo e permette di stare sotto a un portico duecentesco per diversi minuti con calma senza la fretta che a volte abbiamo quando si si visitano tante cose durante la giornata questa è anche una prerogativa dei bolognesi secondo me perché il portico per me ma questa è un'opinione mia personale ha influito proprio anche antropologicamente sul sulla bolognesità perché il fatto di avere la possibilità di fermarsi eh sotto il portico senza l'ansia che una macchina ti investa perché sei su un marciapiede piccolissimo che la carrozza ti travolga perché sei in mezzo alla strada la pioggia battente quindi l'ombrello quindi la possibilità di camminare sereno tranquillo che se incontri qualcuno puoi anche salutarti senza avere il panico di essere investito ha creato secondo me una certa ehm convivialità una certa socialità all'interno della della città che ha reso possibile poi questo modo di vivere anche molto ehm sociale molto socievole molto ehm inclusivo ecco non mai esclusivo che si tende sempre invece ad includere ad accogliere chiunque arrivi allora ho messo adesso ehm tre capitelli perché eh vi volevo far riflettere su questo aspetto perché se la città è la città con portici al mondo potremmo anche pensare di essere quelli con più capitelli al mondo perché se tutti questi portici sono pieni di colonne avremo anche altrettanti capitelli quindi avremo tantissimi capitelli e infatti la storia di Bologna si può raccontare anche attraverso i suoi capitelli perché si può partire dal trecento con i capitelli ehm gotici ad arrivare fino alla Bologna postunitaria eh della dopo l'unità d'Italia con dei capitelli ottocenteschi e vi ho messo tre esempi quello in basso a sinistra è un capitello rinascimentale con la storia raccontata proprio sulla pietra perché quello è un ritratto di Giovanni II Bentivoglio ed è l'unico capitello superstite del famoso guasto del palazzo dei Bentivoglio adesso il palazzo dei Bentivoglio avrebbe dovuto trovarsi dove c'è il teatro comunale ma quando i Bentivoglio furono costretti a lasciare la città nel 1507 perché il papa occupò la città Giulio II i bolognesi nel giro di un paio d'anni distrussero completamente eh a furor di popolo il loro palazzo e si salvò soltanto questo capitello se ne salvarono due in realtà e li trovate tutti e due al civico sei di via Galliera è tutto ciò che rimane di quella reggia eh bellissima e molto famosa che ehm da tutti i i contemporanei viene definita come il più bel palazzo di tutto il rinascimento che però noi non possiamo vedere perché è stato distrutto poi di fianco invece vi ho messo un capitello quindi in basso a destra eh vedete un capitello di una scultrice donna che è diversi a De Rossi e l'ho voluto mettere perché lei è un unicum nella storia della scultura perché lei fu la prima scultrice donna ehm perché la scultura è sempre stata a pannaggio un po' dei maschi perché è un'arte un po' difficile bisogna alzare dei pesi segare bisogna trovare strumenti difficili poi ci si sporca e in oltre al fatto che ovviamente nel cinquecento le donne non potevano di certo scolpire se mai se proprio eri bravissima e proprio avevi un talento innegabile che non si poteva nascondere e nella pittura o in qualche strumento musicale allora potevi avvicinarti a queste arti qua ma come hobby cioè come ricamavi dipingevi ma proprio perché eri bravissima ma se no non è che scolpissi e anche se lo facevi non lo facevi come professione era il tuo hobby il tuo passatempo perché eri brava ma Properzia De Rossi ne fa proprio una professione lei si mantiene facendo la scultrice e lavora alla fabbrica di San Petronio lavora nel cantiere e con ovviamente il panico tra i colleghi maschi tanto che amico Aspertini chiede e ottiene che il suo stipendio sia più basso di quello dei colleghi maschi è una storia un po' che conosciamo benissimo anche oggi e poi sopra vi ho messo invece questo capitello della città post unitaria che risale 1865 di Palazzo Guidotti se voi percorrete via Farini state percorrendo una strada che richiama un po' i boulevard francesi una strada ottocentesca con dei grandi palazzi signorili molto belli molto eleganti perché quella è la città della Bologna post unitaria in cui si cerca di rinnovare anche urbanisticamente una città che finalmente fa parte del Regno d'Italia e quindi trovate queste piazze che piazza Minghetti piazza Cavour che servono per dare aria e far risaltare dei palazzi eh molto monumentali che hanno bisogno di spazio intorno per essere esaltati e tutti i capitelli che danno su piazza Cavour nel portico di Palazzo Guidotti che per intenderci per capirci tutti è dove c'è la gelateria la funivia eh tutti quei capitelli lì sono ottocenteschi invece i capitelli dell'altro versante del palazzo che dà su via Farini sono cinquecenteschi quindi quel palazzo lì è una commistione di queste due epoche hanno tenuto eh quelli cinquecenteschi e poi aggiunto quelli quelli nuovi vi metto adesso una eh carrellata dei portici da record perché qui vedete il più alto che è quello dell'Arcidiocesi in via Altabella poi vedete il più largo che non si sa di preciso quanti metri siano ma pare siano cinque metri e comunque è il più largo è il portico dei servi e poi vi ho messo il più stretto che è quello di via senza nome che questo di sicuro non ha rispettato le regole del bando del 1288 perché non è neanche un metro di larghezza in due non ci si passa lì e poi c'è il portico più lungo del mondo che è invece quello di San Luca che sono quasi quattro chilometri di portico inizia dall'arco Bonaccorsi che è sul viale e poi finisce su al santuario con una parte collinare eh che sale proprio in salita e una parte in pianura che arriva fino all'arco del meloncello che anche questo è un portico che per noi sembra un po' scontato perché noi siamo abituati ad averlo e lì c'è il portico vabbè il più lungo del mondo però è un'impresa dal punto di vista architettonico molto molto complessa perché la parte in pianura vabbè si va in pianura e si fa il portico lungo però è in pianura la parte più complessa è la parte collinare perché si deve mantenere un'altezza e un ritmo delle colonne che ehm segue un territorio scosceso quindi con dei saliscendi con delle curve secche perché non va su dritto deve andare su anche facendo delle curve quindi a un certo punto quando si trova la curva delle orfanelle che deve fare quella curva secca per poi salire impennata ovviamente lì l'impresa architettonica è impegnativa quindi c'è eh da da guardarlo con occhi diversi e poi se ci fate caso il ritmo delle colonne che suddividono le campate nella parte in pianura è eh sono tutte colonne binarie cioè la campata due colonne campata due colonne se invece da guardate dal meloncello in poi non è più così c'è solo una colonna ma se voi lo fate anche centocinquanta volte in una vita non ve ne accorgete perché è fatto così bene che è armonicamente tutto coerente quindi non ci si accorge che c'ha questa diversità allora adesso prima eh di darvi la parola e di lasciarvi spazio e parlare che io ho parlato anche abbastanza così fate voi le domande ehm vi ricordo che eh riceverete fra un pochino una mail con un indirizzo al quale se volete e avete piacere sostenere l'associazione potrete fare una donazione e in più riceverete un link con il quale potete iscrivervi e associarvi perché se volete partecipare ai prossimi webinar è necessario associarsi adesso se volete fare delle domande per chi non è molto pratico con queste novità che abbiamo ehm bisogna schiacciare il tasto con la manina cioè trovate un tasto con una manina così voi lo schiacciate e poi potete parlare per parlare dovete attivarvi il microfono noi non possiamo farlo né io né la mia collega che fa la regia da remoto non possiamo attivare il vostro microfono dovete farlo autonomamente quindi fate la la manina e poi la domanda se poi invece non ci sono domande tra qualche secondo ci salutiamo direi che non ne abbiamo quindi se siete d'accordo ci ci salutiamo e spero di rivedervi alle prossime serate con i webinar ciao a tutti grazie